Salve, di Luigi Perandello io sono così. Quando tu riesci a non avere più un ideale, perché, osservando la vita, sembra un'enorme pupazzata, senza anesso, senza spiegazione mai. Quando tu non hai più un sentimento, perché sei riuscito a non stimare, a non curare più gli uomini e le cose, e ti manca perciò l'abitudine che non trovi e l'occupazione che sdegni. Quando tu, in una parola, viverai senza la vita, penserai senza un pensiero, sentirai senza cuore, allora tu non saprai che fare, sarai un viandante senza casa, un uccello senza nido. Io sono così. Io sono così. Io sono